guarda e ho messo lì tanto tempo è guarda monti non pipì ciao lady olimpia ma quanto sì che si ricorda quasi 17 mesi a olimpia io sono arrivata olimpia lady 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 no anche la bea va giù lei va dai vai l'hai fatta grazie vai giù lei vai giù no no non c'è niente di incentivare vediamo è un po' non è tanto profondo è tutto profondo sono venuti vai prendila vai 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 vea prendila dove prendila via no non è vero c'è l'iccado che mi ha visto qualche volta ma lì ho una bottiglia di vino qui la chiesa di san deonigi a carcano e questo qui dove c'era il castello del barbarossa lì sono i ruderi e queste sono le pietre dove c'era il castello del barbarossa via ciao ce l'avevo ce l'avevo olimpia sei gelosa sei gelosa che faccio le carezze l'olimpia eh sì va 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 guarda 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 ti va oh guarda mamma mia il pane eh pane che poi che vuole tu l'hai già mangiato ti l'ho dato sciocca non vuole Non mangi più, eh? Basta. Congresso. Tutti contenti.